Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio proporre un po' di prodottini che ho selezionato sul sito di Wish che sono sia adatti all'organizzazione della casa che prodotti di home decor in generale. Questi prodotti mi sono stati forniti gentilmente dall'azienda Wish e devo dire che sono rimasta abbastanza stupita perché comunque me li hanno spediti anche qua in Gran Canaria. In circa un mesetto sono riuscita a ricevere tutti i prodotti. Il primo prodotto che ho scelto è questo organizzatore per cavi. In particolare questo è adatto anche per le ciabatte perché è abbastanza capiente e quindi magari per organizzare i cavi del computer e tutte queste cose. Ha questo coperchio in legno che è molto carino e poi soprattutto ha queste fessure che rendono più facile il passaggio dei vari cavi. Sempre rimanendo a tema cavi ho scelto poi questi due piccoli accessori si possono applicare direttamente alla scrivania. Hanno questa parte adesiva, si possono far passare sia i cavi USB che magari i cavi delle cuffie. Ho poi scelto questi due appendini carinissimi che sono utili sia per l'organizzazione ma soprattutto sono anche molto decorativi ed esteticamente molto carini. Disponibili in varie versioni, io ho scelto queste due foglie. Devo ancora decidere dove appenderli ma probabilmente li utilizzerò qua in camera da letto per appendere magari le giacche o comunque qualcosa di leggero. Sono anche molto carini per l'ingresso e soprattutto mi piacciono molto perché hanno questa tonalità di dorato che si accosta bene con alcuni dettagli che ho qua in camera. Mi piacciono veramente tantissimo. Per quanto riguarda l'home decor ho poi scelto questo vaso, anche questo molto carino, praticamente un semplice vaso in ceramica bianco ma che ha la particolarità di avere questo supporto dorato e si può utilizzare principalmente per le piante ma volendo anche per delle candele. L'ho scelto perché comunque è perfetto per la camera da letto perché ha questo richiamo dorato che mi piace molto. Tornando all'organizzazione ho poi scelto questo piccolo set porta pennelli o comunque porta spazzolini e diciamo che è un po' un organizer che si può utilizzare sia in bagno ma volendo anche in camera. È molto carino soprattutto anche per il colore che non è proprio bianco ma è una sorta di beige tendente un pochino a rosa. Ha questa forma geometrica un po' particolare e poi soprattutto è molto comodo per l'organizzazione dei prodotti. Ho poi scelto un set di organizer per l'armadio per mantenere appunto i vari capi in ordine molto più facilmente. Un tris, abbiamo sia l'organizer più grande questi due un po' più piccolini che sono invece per intimo e calzini. Questo ha 7 spazi mentre quest'altro ne ha 11 il materiale è facilmente lavabile diciamo. Io l'ho scelto nella variante grigia ma è disponibile anche quella bianca. Tornando poi sul dorato che sapete che ogni tanto mi piace inserire dettagli dorati in casa ho poi scelto queste piccole maniglie che sono davvero fatte molto molto bene. Io ne ho prese due in questa versione più piccola e poi ne ho prese due in versione più grande. Adesso le andiamo a aprire così ve le faccio vedere. E con queste pensavo di andare a fare qualche modifica ad alcuni mobili. Sapete che mi piace fare anche questo tipo di lavoretti quindi prossimamente vedrete come le utilizzerò. Sono molto robuste ma poi mi piace veramente tanto questa trama che ricorda un po' una foglia o comunque questo stile un po' particolare. Un'altra cosa che ho preso che cercavo da tantissimo tempo ma che non sono riuscita a trovare in nessun negozio sono i fiori della pampa. Sono fatti veramente bene. Ora sono leggermente piegati perché appunto li ho tirati fuori da poco dalla confezione. Sono morbidissimi. Li ho cercati un po' dappertutto ma non sono mai riusciti a trovarli e quindi finalmente posso aggiungere questo elemento decorativo in casa. Ho voluto poi provare dei gadget da cucina. In particolare ho scelto questo per il lavandino. Si può rimuovere con facilità ed evitare che vadano a finire pezzettini di cibo una volta lavati i piatti eccetera direttamente nello scarico. Io l'ho scelto rosa perché mi piaceva molto questo accostamento rosa e grigio e disponibile anche in altri colori. Questi sono i prodotti che ho scelto da Wish. Spero che appunto il video vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Fatemi sapere se avete già acquistato da Wish, se sì, come vi siete trovati eccetera. Vi mando un bacione e noi ci vediamo domenica con un nuovo video. Ciao! Ciao!